Questa mattina i carabini della sezione di campagna agli ordini del comandante Luca Geminale hanno deferito in stato di libertà dall'autorità giudiziaria 5 giovani del posto, ritenuti responsabili di reati di invasione e danneggiamento aggravato di edifici pubblici. In particolare, nella tarda serata del 25 giugno, dopo aver forzato una porta di ingresso secondaria di una finestra, un gruppo di una decina di adolescenti aveva accesso alle aule della scuola primaria di località Camaldoli e dopo aver prelevato della colla e delle vernici a tempera presenti nell'istituto, imbarattavano i muri e le varie suppellette di ivi presenti. Le investigazioni poste in essere sul posto portavano all'identificazione dei 5 indagati, mentre sono in corso ulteriori indagini volte al ripetimento degli altri giovani, nonché ad accertare i collegamenti con altri atti vandalici compiuti nelle ultime settimane nella stessa scuola e nei vicini plessi scolastici di Serra d'Arce e Vallegrini.